Ammonta a 6 milioni di euro l'aumento di capitale che la regione toscana porterà alle terme SPA, azienda che gestisce le terme di Montecatini insieme al comune della città termale. L'annuncio della ricapitalizzazione è arrivato questa mattina da parte del governatore della Toscana Enrico Rossi. Ciò comporterà lo sblocco dei lavori alle terme leopoldine, ritenute la struttura che dovrà rilanciare il turismo e l'economia della città. Sono favorevole all'operazione, ha detto Rossi, ma all'aumento di capitale deve essere contestuale. La scadenza per la presentazione di un piano industriale che prevede un'ampia ristrutturazione e riequilibrio finanziario entro il 2014. La scadenza per la presentazione del piano industriale è fissata per il prossimo 30 giugno, piano che dovrà essere poi presentato ai creditori e alle banche. La delibera che oggi noi abbiamo in giunta è una delibera che prevede un aumento di capitale per andare avanti, altrimenti l'azienda terme rischia davvero un collasso. Noi però, insieme a questo aumento di capitale, chiediamo anche che ci si presenti un piano industriale per le terme di Montecatini che ci consenta di dire che a partire dal 2014, mo' basta, bisogna che quell'azienda sia in equilibrio. Per le decisioni relative alle terme di Montecatini, la Giunta regionale si riunirà nuovamente venerdì 28 giugno. europea